Carissimi giovani cinefili, Lars il Bastardo, Cinema Exit, oggi in controluce e più che una recensione vi segnalo un film da recuperare e vedere assolutamente, e sì insomma c'ho pochissimo tempo, quindi proseguiamo con la nostra imitatissima ormai lista del merda, siamo arrivati alla lettera T, T come Taxidermia, film del 2006 di Gheorghi Pelfi. Ah, un film geniale, divertentissimo, grottesco, che lascia senza fiato dalla prima all'ultima inquadratura. Si tratta di un film composto da tre episodi che raccontano la storia di una famiglia ungherese attraverso tre generazioni. Nel primo episodio assistiamo alle avventure e sventure di un soldato semplice, masturbatore compulsivo e guardone, che vive e lavora presso la fattoria in mezzo al nulla di un tenente e della sua grassissima moglie, una matriarca dai fianchi infiniti. Un rapporto sessuale con quest'ultima consumato su un letto di carne appena macellata, di maiale e soprattutto attraverso la cotenna della bestia, darà alla luce un bambino non molto dissimile da un porco. Il piccolo, che nasce con una graziosa coda suina, sarà il protagonista del secondo episodio. Kalman, durante la sua adolescenza, è una promessa dello sport. In età adulta diventa un campione, ma di quale sport? Di gare vi abbuffate. Diventa un fenomeno da Guinness dei primati di mangiata e di successivo vomito. A proposito, in questo film c'è una quantità di vomito... Vabbè, lasciamo perdere. Durante queste gare di abbuffate, il giovanotto incontra una ragazza, anche essa pianotta. I due si innamorano e da questo amore nasce un bambino che, a differenza dei suoi genitori, è magro come un chiodo. La Iosca è il protagonista del terzo episodio, quello ambientato ai giorni nostri. In età adulta il giovane diventa un tassidermista, un imbalsamatore. Suo padre, il protagonista del secondo episodio, è diventato nel frattempo un gigantesco mostro obeso che vive rinchiuso, immobile, in una sorta di cella a bagno, in compagnia solo di una televisione e di una quantità infinita di gatti giganteschi che vengono nutriti solo a margarina. Il finale del film contiene una delle sequenze più belle e meglio girate che io abbia mai visto in tutta la mia misera esistenza. Taxidermia è un film folle, assurdo, divertente da morire, girato da un giovanissimo regista con la maestria di un grandissimo autore del cinema. Io vi rimando alla recensione molto dettagliata e assolutamente impertibile di uno dei migliori canali di cinema di YouTube Italia, se non il migliore. La recensione di Taxidermia di Shiva Produzioni. Oggi è stato così, un soffio, un alito di vento, un filo di perle che compare e poi sparisce. Insomma, devo andare, ciò da fa, duemila cose da fa. Lascia il bastardo, Cinema Exit, grazie per aver visto questo video. Iscrivetevi, pollici in su, in giù, dove pare, pure al culo. Grazie per aver seguito Cinema Exit.